Toro 1 Roma 1 Roma 1 3 Roma 1 2 Roma 1 2 Ma che cazzo è? Roma 1 Te ne hanno! Metti qualcosa di vicente, stava a fare un video Non mettere tutte le tour Non mi faccio vedere Quella fa la vita Io Avvenuti S. la testa il senso le ducco lo bocce l'uomo di vento per i pezzi l'italia l'agentivo e che quello di primo il frattemano in te qui, super no, molto semplice, è una lettera importante, ehi, yes, and she dies, love, oh, love me, e le donne, e c'è il luogo, e le amiche, e le amiche, e le amiche, ecco ma che è, ultimo momento di cần build, eh che sì che retturiamo He eh 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 10 no ecco che lo scuola di ericite per la ricerca idea cinema il disco marchetti maglie d carlo perchè c'è la natale automatico di ovvero iniziali incendiamo corti per la ricorda minima radio telepontina testo ma che è? testo proprio perchè testo si fa in una vita tlc testo europa tv market chiamate subito quello dei vecchi quello dei vecchi ci metterò le peggio figlie un malattico canale zero alla che cazzo io non ho già fatto indietro ci crede che c'è sempre che non ho anche indietro credo un colore che non ho mai sono le stessi eeeh colore clima lina per il paese dopo andare al mondo piante quando canteremo andò tutta un attore accetto da un uomo no o cazzo caldo un'altra e per favore io è figo l'audio aspetta boccia si vede l'autore guarda come la telecamera il stature non cagli di lavoro gianni temi vi dà appuntamento vi dà appuntamento vi dà appuntamento vi dà appuntamento pronto? ciao buona sera è questo è tutto è tutto grazie grazie